La lezione di oggi ci porta da Firenze a Venezia. Affronteremo infatti una delle opere più famose del primo rinascimento veneziano ed è un'opera straordinariamente ricca di possibilità di riflessione e di osservazione. Il titolo della nostra lezione, Amor sacro e amor profano nella Venezia neoplatonica, non deve spaventarci. In realtà non mi addentrerò nella riflessione intorno a temi filosofici perché il dipinto, vedrete, ci darà occasione di chiarire senza troppa difficoltà gli aspetti del contenuto e gli aspetti formali. L'opera di cui ci occupiamo stasera è un'opera celeberima di Tiziano. Si tratta di una grande dipinto su tela di 279 cm x 118 che Tiziano esegue adottando la tecnica della pittura d'olio largamente con alcune parti dipinte a tempera, quindi potremmo definirla una tecnica mista anche se, come hanno dimostrato gli dati dell'ultimo restauro, è stato largamente utilizzato l'olio come elegante. L'opera si trova all'interno della Galleria Borghese di Roma nell'ultima sala e, come vedete, ad essa è stata dedicata un'intera parete, vuoi per le grandi dimensioni, vuoi per l'importanza, la rilevanza e il fascino che l'opera ancora oggi esercita sui visitatori. Sappiamo che è entrata a far parte delle collezioni di Scipione Borghese nel 1608. Prima di quella data non abbiamo alcuna notizia dell'opera e per fortuna studi recenti ne hanno ricostruito quantomeno la fase di commissione, come vedremo più avanti. Nel 1608 l'opera entra in collezione borghese proveniendo, insieme ad altri circa 60 dipinti, dalla collezione di un cardinale della Curia romana, ma di origine cremonese, che si chiamava Paolo Emilio Sfondrati. Il titolo, con il quale oggi è conosciuto, è in realtà molto posteriore alla realizzazione del dipinto e addirittura anche alle prime fasi collezionistiche note. Infatti deriva, diciamo così, da un inventario della Galleria Borghese del 1693, che indicava il quadro come l'amore divino et amore profano con amorino che pesca dentro una vasca, al numero 462 di Tiziano con cornice dorata. Il titolo poi diviene definitivamente amor sacro e amor profano nel 1792, all'interno di una guida, una guida della città di Roma, redatta da Giuseppe Vasi, che è il primo a utilizzare l'espressione che conosce oggi, una fortuna direi universale. Tuttavia, prima dell'inventario del 1693 l'opera non era affatto sconosciuta, ma a lei ci si riferiva con riferimenti appunto di tipo puramente descrittivo. Per esempio nel 1613 l'opera viene indicata come beltà disadorna e beltà ornata. Nel 1648 invece Carlo Ridolfi, un trattatista molto famoso, secentesco, nel trattato appunto Le meraviglie dell'arte scrive che nell'abitazione del principe borghese si trova un dipinto raffigurante due donne vicino a una fonte entro cui si specchia un fanciullo, come vedete proprio come dire descrizioni di quello che il nostro occhio vede. Ma nel 1650 si registra una prima descrizione in cui si prova a identificare il soggetto del quadro. Giacomo Manilli, in una descrizione di Villa Borghese, riportò infatti l'esistenza di un quadro grande dei tre amori di Tiziano. E quindi probabilmente sulla scorta di questa indicazione, il quadro grande dei tre amori, che nell'inventario del 1693 si tentò di individuare nelle due donne l'amor sacro e l'amor profano. E questa lettura è stata destinata di fatto a orientare le posizioni della critica per moltissimo tempo. Peraltro non c'è mai stato accordo su quale delle due fosse l'amor sacro e quale l'amor profano. Dal momento, infatti, come vedete, che ognuna delle due porta in sé gli attributi validi per l'una e per l'altra tesi, cioè la donna vestita castamente può essere simbolo d'amor sacro e quella sensuale invece simbolo d'amor profano, ma paradossalmente invertendo invece la situazione il ricco abbigliamento potrebbe essere simbolo di montanità e dunque d'amor profano, mentre la nuda allegoria simbolo della purezza, cioè simbolo dell'amor sacro. E come vedrete questa seconda interpretazione è quella che in epoca più vicina a noi ha avuto maggior consenso. Ma prima di addentrarmi nella lettura così del significato simbolico ma anche letterale di questa immagine, vorrei soffermarmi un attimo sui due aspetti fondamentali che possono non solo orientarci nella lettura e nella comprensione del soggetto, ma anche guidarci nella migliore comprensione dell'arte e dello stile di Tiziano. Mi riferisco cioè alle due immagini femminili in primo luogo, elementi fondamentali della rappresentazione, e poi al paesaggio che appare sullo sfondo. Anzi direi che un aspetto importante sul quale dovremo interrogarci è proprio come mai Tiziano collochi questa immagine così enigmatica, se volete, ma anche così affascinante, su uno sfondo di paesaggio. Quindi scusate, mi soffermo solo un attimo sulla personalità dell'artista che ha realizzato il dipinto. Non mi addentrerò affatto nell'analisi di tutta l'arte di Tiziano, che sarebbe davvero impossibile fare nell'arco di una lezione, ma come vedrete mi soffermerò solo sugli aspetti dell'attività del giovane Tiziano. Qui invece lo vediamo in un autoritratto, l'unico che possediamo con certezza dell'artista, è un autoritratto nel quale l'artista ci appare anziano, come vedete. Risale infatti al 1565 quando Tiziano ha già 75 anni. Preferisco quindi avere davanti agli occhi l'immagine di questo giovane uomo ritratto da Tiziano negli anni in cui ha realizzato il dipinto della Galleria Borghese. Non si tratta di un ritratto dell'artista, non sappiamo chi sia la persona ritratta, ma insomma mi sembra più suggestiva della condizione del pittore nel momento in cui gli viene commissionata l'opera che noi chiamiamo Amor Sacro, Amor Profano. Tiziano era nato a Pieve di Cadore probabilmente intorno al 1490, anche se lui tenderà negli ultimi anni di vita ad avvallare l'idea che invece la sua data di nascita fosse il 1480. Questo come dire per dimostrare la proprietà molto avanzata e quindi la fatica anche fisica che comportava per lui il dipingere, ottenere così un compenso più alto per i suoi quadri. Ma insomma diciamo che ragionevolmente Tiziano nasce nel 1490 nel contesto di una famiglia benestante, il padre era un uomo che rivestiva in carichi pubblici ed era comunque nel complesso una famiglia ricca di personalità di spicco, di notai, di imprenditori importanti. Una volta rilevata la predisposizione del giovane alla pittura viene inviato a Venezia dove prima insomma viene associato ad una bottega di un artista davvero di secondo piano e poi finalmente entra nella bottega di Giovanni Bellini dove davvero acquisisce tutti gli elementi essenziali della tecnica del fare pittorico e anche riferimenti fondamentali all'arte veneziana. Ma direi che il motivo di maggior interesse ai fini della definizione di un proprio originale linguaggio Tiziano l'ha nell'incontro con Giorgione. Giovane Tiziano e Giorgione infatti sono considerati universalmente i veri rinnovatori della cultura figurativa e i fondatori del linguaggio della maniera moderna a Venezia, pur essendo entrambi in larga misura debitori della pittura di Giovanni Bellini. Sappiamo che Tiziano, poco più che diciottenne e quindi emancipatosi molto presto in modo molto positivo, già con una fama che lo accompagnava discreta dalla bottega di Giovanni Bellini, dicevamo Tiziano, collabora con Giorgione nel 1508 all'affresco, alla decorazione delle pareti esterne del nuovo fondaco dei tedeschi e questa collaborazione è indubbiamente sinonimo non solo di considerazione da parte della Serenissima Repubblica, che è proprietaria dell'immobile in carica e due della decorazione, ma è segno anche di una collaborazione solidale e di una condivisione di orientamenti di linguaggio tra i due artisti davvero significativa. Torniamo dunque al nostro dipinto, vi ricordo che i due temi sui quali concentreremo la nostra attenzione sono quella della rappresentazione delle due donne e quello del paesaggio. Partiamo dall'immagine della donna e per farlo vorrei proporvi due famosissime opere che in qualche modo definiscono gli estremi della questione del rapporto a Venezia tra pittura e figura femminile. Le due opere sono due opere molto famose e apparentemente davvero in contrasto drammatico l'una con l'altra, rappresentano in un certo senso i due estremi della possibilità di rappresentazione del corpo femminile, la vecchiaia e la bruttezza, la sgradevolezza connessa con la condizione e la giovinezza splendida, meravigliosa e di divina bellezza. Tiziano con la flora stabilisce proprio i canoni della bellezza femminile o quantomeno della bellezza femminile rappresentata in pittura nella Venezia del Cinquecento. In entrambi i casi però si tratta di immagini di carattere simbolico allegorico, cioè non si tratta di ritratti e questo è un aspetto da sottolineare e da rimarcare con forza. Nella Venezia del Cinquecento il ritratto femminile, così come noi lo conosciamo, praticamente non esiste e la cosa genera non poco stupore, sì che si considera che in aree analoghe per sviluppo culturale, per condizione sociale, il ritratto femminile invece era, non dico largamente, insomma discretamente presente, sia, mi riferisco sia alla terraferma veneziana, sia ad altri luoghi anche distanti da Venezia ma con condizioni piuttosto simili alla società veneziana. Mi riferisco in particolare alla situazione del ritratto femminile nelle Fiandre, dove abbiamo avuto, insomma sono testimoniate, ritratti celeberrimi femminili e questo si spiega nel contesto delle Fiandre in relazione al ruolo, all'importanza che la donna aveva in quella società, una società mercantina, società imprenditoriale, nella quale spesso le donne erano coinvolte nell'attività di gestione della bottega, soprattutto quando i mariti, i fratelli, i padri, se ne dovevano allontanare per i loro traffici. In fondo una situazione analoga potremmo forse riconoscerla nella Firenze della seconda metà del Quattrocento, dove anche se in un contesto culturale diverso da quelli degli Fiandre, la figura femminile viene spesso valorizzata attraverso la commissione di ritratti appunto. A Venezia no, a Venezia per larga parte del 1500 il ritratto è solo maschile, anzi possiamo dire che in assoluto il genere del ritratto entra tardi nella tradizione della pittura veneziana. Il primo a realizzare ritratti ai gentili uomini, al patriziato veneziano, è Giovanni Bellini insieme al fratello gentile per la verità e il modello di riferimento per i due fratelli, in particolare per Giovanni, sarà da una parte i ritratti, saranno da una parte i ritratti realizzati da Antonello da Messina, che costituiranno un motivo importantissimo per Giovanni, vi ricordo che Antonello da Messina era stato per lunghi mesi presente a Venezia nel 1475, ma anche e soprattutto il modello a Giovanni viene dai ritratti fiamminghi che giungono a Venezia e come potete vedere gli elementi che accomunano i due dipinti sono molto numerosi, l'attenzione al dettaglio analitico, alla definizione epidermica della materia, dei tessuti ma anche degli aspetti caratteristici del volto e della capigliatura, il distacco, la lontananza tra chi osserva e la persona ritratta grazie a questo espediente di non fare incrociare gli sguardi e anche una struttura volumetrica significativa che consente di leggere la dimensione proprio spaziale, plastica delle figure con chiarezza. Le donne a Venezia non vengono ritratte, gli unici ritratte, le uniche immagini femminili prima delle due figure allegoriche che abbiamo visto di Giorgione e Tiziano erano esclusivamente immagini di sante, alle quali Giovanni Bellini e i suoi contemporanei danno tratti, fisionomie e anche a volte anche definizioni emotive diverse ma pur sempre immagini come dire idealizzate. Ed eccole le due donne dell'amor sacro e amor profano. Come vedete si tratta di due figure che rispondono ai canoni della bellezza che Tiziano aveva già proposto a Venezia, stava proponendo anche in quei mesi con la flora. I due volti sono tra loro molto simili, e questo ci suggerisce due possibili modelli di interpretazione non necessariamente in contrasto tra di loro, e cioè che da una parte si tratti per entrambe le figure di figure di natura assolutamente allegorica e che le due figure allegoriche sono tra loro in relazione. Eccole i canoni della bellezza femminile, proprio come dire imposti da Tiziano. La flora da una parte e la donna allo specchio dall'altro, vedete, sembrano davvero sorelle gemelle delle nostre due figure femminili della galleria borghese. Lo stesso sguardo, lo stesso splendido ovale del volto, lo stesso colore dei capelli, leggermente increspati, la dolcezza complessiva dell'immagine e l'estrema giovinezza nell'aspetto. Ora, uno studio piuttosto recente ha consentito di riflettere intorno appunto a questa mancanza di ritratti nel senso pieno del termine femminile a Venezia, nello stesso tempo un'esuberante abbondanza di immagini femminili, tutti riconducibili ad un tipo fisico noto e che sono particolarmente presenti nel contesto veneziano, lagunare e non solo. Così ho voluto intitolare questa piccola sezione sposa e madre nella Venezia del primo cinquecento, perché il dubbio che viene osservando questa discrepanza da una parte molte figure femminili idealizzate, dall'altra la mancanza di fatto di ritratti veri e propri fa supporre che in qualche modo a Venezia si sia supplito alla mancanza di interesse nella rappresentazione dell'individuo con immagini idealizzate della donna, sposa e madre, che comunque in qualche misura doveva essere valorizzata anche nella Venezia del Cinquecento. Non è un caso che molti artisti siano stati ispirati dalla figura di Flora di Tiziano, il caso per esempio di Palma il Vecchio, il quale in ripetute occasioni propone la stessa immagine di Tiziano, sostanzialmente la stessa immagine, vedete una giovane donna, una Flora, quindi un'immagine allegorica e dietro l'allegoria è possibile quindi come dire celare intenti magari più diretti e più immediatamente legati alla concretezza del quotidiano pur senza evocare come dire giudizi di natura sconveniente su di essi, quindi quella che vede è una Flora e non è un'immagine reale, sembra dirci il committente, sembra suggerirci l'autore di questi dipinti. In realtà vedete, capite voi che dietro il velo dell'allegoria si cela un'immagine di seduzione con una giovane donna e capelli ancora sciolti sulle spalle le indicano come una fanciulla non ancora sposata o forse potremmo azzardare la sera delle nozze quando scioglie la veste e mostra lo splendore del suo aspetto allo sposo. Quindi potremmo forse incominciare a ipotizzare che questo tipo di immagine così allusiva alla condizione nuziale così seduttiva nell'aspetto pur non prevedendo affatto che venisse ritratta la sposa, venisse realizzata in realtà in occasione matrimoniale, in occasioni nuziali. C'è un altro indizio in queste immagini sia in quella di Palma sia in quella di Tiziano che ci orienta in questo senso. Vedete entrambe le flore, chiamiamole così, ritratte, fanno con la mano sinistra il gesto del due e questo gesto che appare, gesto che come dicevamo appare anche in altre immagini, è riconducibile all'idea dell'unione, dell'unione coniugale, del singolo che diventa coppia. Anche nel caso di Giorgione, il suo celebre ritratto di Laura, conservato a Vienna al Custis Storisches Museum, pur essendo esplicitamente ispirato ad un famoso ritratto di Leonardo, il ritratto di Ginevra Benci, è evidentemente collocato nel contesto della raffigurazione di natura simbolica, allegorica ma anche seduttiva e di ispirazione coniugale che abbiamo visto in precedenza. Agli altri esempi possiamo aggiungere questo di Bartolomeo Veneto, vedete una nuova flora di aspetto diverso dal precedente, il linguaggio di Bartolomeo è più arcaizzante, soprattutto in questa fase iniziale della sua attività, siamo intorno al 1520 e l'opera appare disegnata con contorni molto netti, con una grande limpidezza di sguardo e un'attenzione grafica ai particolari che insomma rivela una attardarsi in questa fase di Bartolomeo Veneto sul linguaggio dei primi anni del Cinquecento. La cosiddetta violante opera a lungo contesa tra Tiziano e Palma il Vecchio e ora definitivamente attribuita a Tiziano, ci introduce ad un altro modello di beltà femminile, vedete i canoni del volto e della capigliatura sono quelli che abbiamo già osservato nelle immagini allegoriche, ma la figura in questo caso ci appare vestita, anche se il gesto allusivo riferito al tema delle nozze è presente anche qui. L'idea evidentemente è quella di proporre un'immagine femminile della sposa, forse nel momento in cui la sera si concede allo sguardo del marito. E la cosa continua con Palma il Vecchio, altrettanto famoso dipinto che è stato tra l'altro in mostra a Bergamo in occasione appunto della mostra dedicata a Palma, in essa si vede la giovane donna che scioglie la veste incomincia a togliersi il velo e quindi si presenta in una condizione allusiva con questa immagine simbolica delle dita che segnano il 2 presente e per noi ormai piuttosto chiaramente decifrabile. E ancora altro dipinto celeberrimo di Palma, anche qui la donna appare mentre inizia a sciogliere letteralmente le proprie vesti è chiaro che il dipinto è giocato tutto sullo splendore della rappresentazione di quei tessuti di seta, sulla cangiantezza luminosa del tessuto a contrasto con l'incarnato della donna. Ma al di là insomma della valenza visiva dell'immagine il contesto nel quale l'immagine si colloca è presumibilmente sempre di natura matrimoniale. E infine chiuderei questa brevissima rassegna con un famoso quadro di Paris Bourdon intitolato Gli amanti che in realtà è stato sciolto senza ombra di dubbio come l'immagine invece di una copia coniugale per una serie di elementi sui quali adesso non ho tempo di soffermarmi ma che sono tutti di natura simbolica a partire dalla cintura indossata dalla giovane donna che vedete è formata da anelli incatenati, una cintura che veniva indossata proprio il giorno delle nozze ed aveva un significato evidentemente simbolico. La figura che è alle spalle dei due giovani che tradizionalmente insomma aveva condotto a interpretare questa immagine come l'immagine di due amanti e non un'immagine coniugale è in realtà il cosiddetto compare d'anello che il giorno delle nozze portava il regalo dello sposo alla sposa. Torniamo all'immagine dell'amor sacro e l'amor profano per affrontare il secondo tema che vorrei sottolineare con voi all'interno del dipinto e cioè il tema del paesaggio. Una delle grandi questioni della storia dell'arte riguarda proprio la nascita del paesaggio nel corso del rinascimento, nascita del paesaggio che sfocerà poi nel genere autonomo solo nella seconda metà del Cinquecento ma che insomma come vedete già nella tempesta di Giorgione che è dei primissimi anni del Cinquecento diventa una questione fondamentale nell'arte e uno degli elementi qualificanti di quello che noi chiamiamo arte rinascimentale. Quindi una domanda per niente banale che possiamo farci è come mai all'inizio del Cinquecento è emersa una nuova modalità di rappresentazione del paesaggio molto diversa rispetto al passato. E forse una prima risposta a questa domanda riguarda la centralità dell'uomo così come il rinascimento la concepiva, il suo modo di guardare la natura, di abitarla, di scoprire la possibilità in essa di soddisfare le proprie esigenze fisiche e spirituali. E' quindi probabile che di fronte a un processo di secolarizzazione che era in atto l'artista all'inizio del Cinquecento abbia iniziato a guardare in modo diverso il paesaggio non accontentandosi più di raffigurarlo come uno sfondo o come un'ambientazione studiata in modo virtuoso sulla base della prospettiva matematica nella sua realtà spaziale, ma concedendosi appunto all'artista anche di godere della gioia che il paesaggio offre allo spirito umano. E' il primo artista a cogliere il senso di una sostanza poetica del paesaggio che trascende sia le necessità di ambientazione spaziale sia direi che la descrizione topografica dell'ambiente è Leonardo, è proprio Leonardo che individua la natura poetica del paesaggio. E questa natura poetica del paesaggio è molto precocemente intuita dagli artisti veneziani del primo Cinquecento. Lo vediamo nella celeberrima opera La tempesta di Giorgione, conservata alle gallerie dell'Accademia e che risale secondo la maggior parte degli studiosi al 1505-1506, ma qualcuno lo anticipa anche al 1502-3. Il soggetto del dipinto, come sapete bene, è a tutt'oggi indecifrato, anche se insomma si sono moltiplicate le possibilità di interpretare questo dipinto. Ma certo quello che tutti hanno sempre osservato, il titolo anche che è stato dato all'opera lo conferma, è che questo dipinto evoca in modo straordinario lo spirito contemplativo della natura e degli eventi atmosferici che la caratterizzano. Indubbiamente questa evocazione è anche una questione di tecnica e di forma. Infatti, pur essendo costruito su un'organizzazione dello spazio che è tendenzialmente razionale e convenzionale ed è concepita secondo l'alternarsi dei consueti piani prospettici che digradano e sono mantenuti parallele alla superficie pittorica, quindi la collina con l'albero sulla destra, i due muri spezzati al centro, il ponticello, gli edifici sullo sfondo che vedete seguono una diagonale prospettica molto precisa. Bene, malgrado tutto questo, il quadro di Giorgione si distingue per le atmosfere e per i colori. Ora, possiamo per comprendere meglio fare un confronto con un'opera molto famosa e molto importante, sempre veneziana, che risale a circa 25 anni prima del dipinto di Giorgione e cioè il San Francesco in Estasi della collezione Frick di New York che è stato eseguito da Giovanni Bellini intorno al 1480. Quando il dipinto viene proposto da Giovanni Bellini costituisce una grande novità e una grande rottura con il passato. Infatti l'evento sacro, l'evento mistico, è collocato in un contesto di paesaggio in cui il paesaggio non è più sfondo della vicenda ma è parte emotivamente oltre che visivamente integrata con la figura del santo. E quindi, come dire, in qualche misura potremmo considerare questo un primo esempio di rinnovamento del rapporto tra pittore e natura, tra artista e natura, ma anche tra committenti e tema del paesaggio. Tuttavia, tra i due dipinti la differenza è notevole. Infatti, come potete osservare, Bellini dipinge ambienti di cristallina limpidezza, di nitore assoluto. L'aria era rifatta e pura, ogni elemento viene indagato nella sua qualità ottica più precisa e più intensa. Le valli sono fertile e coltivate, il terreno asciugato dal vento, la natura sembra essere, come dire, indifferente all'evento mistico in primo piano e proprio in questa condizione la natura si presenta come elemento di pura contemplazione. Ora, nel paesaggio di Giorgione, al di là della comune funzione del paesaggio come strumento di riflessione, meditazione e contemplazione, le cose sono molto diverse. Infatti, l'opera di Giorgione sembra trasudare umidità, l'aria non è affatto limpida e cristallina, ma riflette la condizione naturale, atmosferica della presenza di umidità latente. E questo ci viene restituito attraverso la pennellata, le luci e i colori. Viste, insomma, un'associazione e il dipinto di Giorgione non può essere in alcun modo associato a quello di Giovanni. Giorgione costruisce un'immagine profondamente unitaria in funzione soprattutto delle scelte cromatiche. Infatti, vedete che i toni dominanti sono quelli del verde e del grigio. E questa scelta di accordare tutti i colori dell'immagine ad una tinta, ad un tono dominante, sarà un elemento straordinariamente valorizzato dagli artisti veneziani, in particolare, negli anni e nei decenni successivi, e costituirà uno degli elementi caratterizzanti proprio il linguaggio veneziano, ed elemento di grande piacevolezza visiva. Naturalmente è un elemento unificatore dell'immagine, per cui i singoli dettagli non rispondono a un gusto descrittivo che ha la necessità di sottolineare la dimensione simbolica degli elementi, come avviene in Giovanni Bellini, osservate come ogni singolo particolare sia esplicitamente destinato ad essere letto e interpretato dall'osservatore in funzione simbolica, in funzione di meditazione religiosa. In Giorgione no. In Giorgione ogni dettaglio ha un senso quasi esclusivamente pittorico ed è destinato ad essere un elemento che interagisce, secondo la qualità della propria condizione di materia, alla luce. Osservando da vicino un particolare della tempesta, possiamo renderci conto della qualità della pittura di Giorgione, caratterizzata dalla mancanza quasi completa di un disegno preparatorio e dalla sovrapposizione di un colore a corpo realizzato ottenendo velature successive di toni a volte fra loro contrastanti. Lo scopo è quello di non solo uniformare da un punto di vista di unità cromatica all'immagine, ma anche quello di restituire all'osservatore la sensazione di un'istantanea ed efficace da un punto di vista visivo risposta alla luce dei singoli elementi della raffigurazione, nel caso specifico il fenomeno del lampo che squarcia improvvisamente il cielo che illumina con una luce fredda e intensa i particolari del paesaggio, ognuno dei quali reagisce in modo autonomo all'episodio improvviso di luce. Negli anni 30 del 900 un importante storico dell'arte che faceva parte del gruppo di Bloomsbury a Londra e cioè Roger Fry affermava che il miglior esempio dello spirito del rinascimento italiano è rappresentato da quella che viene chiamata la Venere di Dresda o Venere dormiente. Si tratta di un'opera conservata appunto a Dresda e realizzata da Giorgione per quanto riguarda la figura della dea addormentata e da Tiziano nella parte del paesaggio e del lenzuolo e dei drappi sulla quale la dea è distesa. Probabilmente il doppio intervento è dovuto al fatto che nel 1510 Giorgione ancora molto giovane muore durante una pestilenza e il dipinto rimasto probabilmente non concluso viene appunto terminato da Tiziano. Ora il problema per gli storici dell'arte e per Fry in particolare però non è tanto decidere che cosa abbia dipinto Tiziano e che cosa invece abbia dipinto Giorgione ma piuttosto una cosa interessante come abbiamo già detto prima è capire perché Giorgione e Tiziano con lui abbiano deciso di collocare una dea addormentata in uno sfondo di paesaggio. In un certo senso quindi potremmo dire che lo studioso tocca un nodo fondamentale della storia dell'arte che è quello del rapporto tra azione figura umana e paesaggio appunto in un contesto culturale e storico preciso. sempre Fry definisce con una direi immagine geniale il corpo dell'aldea una sorta di figurazione astratta nel senso che è completamente distaccata dal contesto nel quale viene collocata ed è oggetto per chi osserva di pura contemplazione. La figura si staglia in primo piano con questa colata di colore di incarnato crema la cui intonazione vedete contrasta meravigliosamente con il bianco un po' freddo argente o del lenzuolo e con il rosso del cuscino. Il paesaggio poi alle spalle intorno a questa immagine incantevole e di contemplazione della dea il paesaggio è evocato come un locus amenus nel quale quindi questa figura di fanciulla splendida dormiente si inserisce perfettamente. Ora per rispondere appunto alla domanda di perché Giorgione e Tiziano abbiano operato questa scelta non possiamo che ritornare o andare alla clima culturale della società intellettuale e patriziato veneziano dell'epoca. L'ambientazione del paesaggio quindi potrebbe derivare da suggestioni letterarie che in quegli anni conoscono la grande fortuna Venezia e che sono state individuate in un'opera in particolare che era stata pubblicata alla fine del 400 a Napoli e poi nel 1504 a Venezia ad Aldo Manuzio incontando un grandissimo successo di pubblico e cioè l'Arcadia di San Nazaro. In questo poema pastorale viene evocato un mondo agreste primitivo ma anche meraviglioso nel quale i pastori e le ninfe agiscono in piena felicità senza preoccupazioni senza drammi. L'Arcadia era nata a Napoli nei circoli intellettuali di Giovanni Pontano e del San Nazaro ma accolta presto a Venezia genera come lì orienta forse potremmo dire meglio una società che era matura per il sogno arcadico e nella quale è possibile individuare dei veri e propri circoli di elite molto brillanti dal punto di vista intellettuale nei quali circoli si coltivava l'illusione di poter evadere dalla realtà quotidiana per trovare rifugio anche solo a livello poetico o visivo in un mondo in cui le uniche preoccupazioni sono di natura amorosa e lo scorrere del tempo è scandito dai versi delle poesie e dalle note della musica. Un pubblico affamato di questo tipo di letteratura, letteratura pastorale, avrebbe facilmente apprezzato le atmosfere evocative e le note allusive della pittura di Giorgione del giovane Tiziano. Infatti una delle opere più famose del giovane Tiziano, tanto famosa da aver ispirato artisti moderni e contemporanei come Manet per Dejeuner sull'herbe o Picasso, una serie importante di immagini di figure immerse nella natura, questa del 1962. Bene, dicevo, proprio un'opera come questa di Tiziano rivela proprio il profondo radicamento dell'artista e dei suoi committenti nel contesto di apprezzamento del clima arcadico e pastorale. Ecco, non entro nel dettaglio dell'immagine che ha un alto valore simbolico, ma vedete che il rapporto tra le figure e il paesaggio è davvero qui un rapporto di assoluta interdipendenza, costruito secondo principi di strutturazione della forma che sono analoghi a quelli della tempesta. Possiamo quindi cominciare ad intuire il perché della scelta di Tiziano di collocare le figure del suo amor sacro e amor profano su uno sfondo di paesaggio, un paesaggio meravigliosamente descritto, come adesso vedremo nel dettaglio, e che ha evidentemente la funzione di sostenere armoniosamente il tema visivamente affascinante ed emozionalmente sensuale delle figure in primo piano. Ed eccolo il paesaggio che sta alle spalle delle due donne, si tratta di due angoli di realtà naturale fra loro diversi, infatti alle spalle della giovane donna vestita sta un borgo fortificato e non trascurare il particolare dei coniglietti in primo piano sui quali ci ritorneremo. Dall'altra parte invece una distesa aperta, allungata sull'orizzonte, sull'orizzonte atmosfericamente molto evocativo, con queste forme anche tra l'altro di gusto nordico che definiscono un borgo affacciato sul lago e piccole figure di caccia e pastorali che in qualche modo umanizzano questo ambiente. Ecco, osservando più da vicino il paesaggio che sta alle spalle della giovane donna vestita, possiamo osservare con più precisione le caratteristiche del linguaggio pittorico di Tiziano, che ha elementi che sono molto vicini a quelli già osservati in Giorgione, cioè manca completamente un disegno preparatorio. L'artista definisce i piani prospettici concependoli secondo una visione tradizionale di piani paralleli alla superficie del dipinto, ma definendo questi piani in base all'alternanza di toni cromatici e non di elementi strutturali. Infatti vedete che i rilievi vengono indicati con un profilo più scuro che li definisce, il pendio del rilievo è caratterizzato da piccole pennellate che ne individuano la direzione e la pennellata di Tiziano ci appare sottile, caratterizzata da sovrapposizioni di velature che consentono di ricondurre l'immagine ad una omogeneità cromatica davvero significativa. Gli stessi toni caratterizzano sia la parte naturale del paesaggio sia le parti architettoniche. Come vedete l'elemento luminoso è sottolineato particolarmente dall'artista con piccoli tocchi di pennello di biacca che rialzano il tono luminoso e osservati da lontano sullo sfondo del dipinto contribuiscono a guidare lo sguardo dell'osservatore. Vi faccio osservare anche il particolare della luminosità più intensa intorno al profilo delle case che ha proprio lo scopo di esaltarne il profilo stesso e di renderne più facile la percezione. Invece nella parte diciamo relativa al paesaggio che si apre verso l'orizzonte sulla destra del dipinto direi che sono notevoli da osservare non solo i passaggi dei piani prospettici, vedete che in questo caso si alternano con elementi chiari ed elementi scuri, ma la capacità di Tiziano di suggerire il movimento degli animali e delle greggi con pochi tocchi di pennello. Infine osserviamo come Tiziano realizza la rappresentazione della figura umana, della figura della giovane donna. Come possiamo osservare in questo caso il disegno preparatorio è stato realizzato dall'artista ed è resta un'immagine anatomicamente così perfetta ma anche così complessa non poteva non essere sostenuta da linee di riferimento di disegno sottostante. L'osserviamo molto bene nel braccio che regge la fiaccola e più in generale direi proprio nelle zone in ombra della figura, quelle che appunto dovevano essere dettagliate con più accortezza ed erano anche zone del disegno preparatorie che dovevano servire a sostenere e reggere le ombre dell'incarnato. Detto questo Tiziano si sforza di fondere la figura con il paesaggio circostante, direi con l'atmosfera del paesaggio circostante in modo da evitare l'effetto di figurina secca appoggiata sullo sfondo che spesso caratterizzava le figure, le immagini degli artisti quattrocenteschi e quindi sfuma con accuratezza i contorni, i profili della figura con passaggi chiaroscurali molto attenti e non utilizza se non nel braccio che regge la fiaccola l'espediente della linea di contorno proprio per evitare di dare una struttura troppo netta di profilo all'immagine rispetto allo sfondo. Nel frattempo osserviamo insieme la straordinaria abilità dell'artista di restituire il senso della stoffa e la capacità della stoffa di reagire alla luce così diverso rispetto allo splendore dell'incarnato della giovane e l'abilità anche di accostamento dei toni e delle tinte che sono davvero anche esse tutte accordate tra loro in modo mirabile. Ma torniamo all'immagine complessiva per cercare di comprenderne il significato. Ora credo che sia piuttosto evidente il fatto che l'immagine ha ed è stata concepita per avere un significato di natura simbolica e allegorica e questo insomma è riconoscibile intanto nella straordinarietà, eccezionalità dell'iconografia ma anche insomma nel confronto tra queste opere e la tradizione contemporanea veneziana. Quindi le due donne che noi vediamo qui rappresentate non sono due figure reali ma sono due figure allusive e il contesto culturale nel quale si collocano è quello appunto della cultura neoplatonica che attraverso la figura di Pietro Bembo era arrivata precocemente in città da Firenze passando attraverso Mantova e aveva dato forma insomma impregnato di sé anche la cultura veneziana. Per cui possiamo osservare come del resto già nel 1600 siano tre le forme d'amore che vengono rappresentate nell'immagine. Al centro abbiamo una vasca che è un sarcofago all'interno della quale vasca un amorino sta mescolando l'acqua. seduta sulla vasca e vedete che Tiziano qui rivela il fatto di essere un artista giovane infatti se osservata nel dettaglio la figura abbigliata rivela un po' di fatica nel collocarsi su quella vasca insomma il suo essere seduta su quella vasca non è risolto dall'artista in modo perfetto mentre più convincente è la posizione invece dell'altra figura quella nuda. Ora possiamo partire a cercare di interpretare l'immagine proprio dalla raffigurazione che sta sul sarcofago Fontana. Sul sarcofago è rappresentata una scena scolpita che è stato oggetto naturalmente di varie interpretazioni ma insomma dal mio punto di vista la più convincente interpreta questa scena come a sinistra la rappresentazione di un rapimento forse il ratto di proserpita proserpina scusato comunque un'azione violenta nei confronti di una donna. La dimensione aggressiva e sessualmente aggressiva di quell'immagine è sottolineata dalla presenza del cavallo che come sapete tradizionalmente nel contesto rinascimentale era associato all'idea dell'istinto irrefrenabile della pulsione quindi non controllabile. Sulla destra ritroviamo probabilmente i personaggi che abbiamo osservato a sinistra ma in una nuova condizione infatti la giovane donna è in piedi sulla destra e osserva un uomo che punisce frustandolo comunque insomma aggredendolo quello che probabilmente è l'autore del rapimento e dello stupro o comunque della suggestione violenta che l'immagine propone. Possiamo quindi dire che su questo sarcofago, sulla fronte del sarcofago, è rappresentata l'immagine dell'amore nella sua forma più bassa, più istintuale quindi in quanto tale meno pura. Passiamo ora ad osservare la giovane donna vestita. Molti degli elementi che Tiziano associa alla figura femminile ci riconducono al tema delle nozze, della sposa. Infatti vedete la giovane ha i capelli sciolte sulle spalle come abbiamo già indicato elemento caratteristico della sua condizione di giovane nubile che accede alle nozze. Sulla testa la capigliatura è caratterizzata dalla presenza di una coroncina di mirto essenza tradizionalmente associata appunto alla sposa e la veste è chiusa da una cintura realizzata con maglie incatenate secondo una tradizione simbolica già osservata. Importantissimo poi è il tema del cofanetto che la giovane donna astringe ed esibisce. Il cofanetto infatti è probabilmente il cofanetto degli aghi e dei fili il dono cioè che lo sposo veneziano faceva il giorno delle nozze alla sposa cofanetto che aveva evidentemente un significato di natura simbolica. E ancora accanto alla sposa vedete stanno i due coniglietti immagine simbolo di fertilità. La porzione di paesaggio che sta dietro la giovane sposa rappresenta come abbiamo già visto un borgo fortificato cioè una città ed è interessante l'associazione del tema nuziale con quello della città cioè del luogo della legge del luogo in cui l'uomo vive regolando i propri rapporti con gli altri attraverso lo strumento della legge perché questo è riconducibile al tema dell'amore e dell'amore coniugale che questa donna rappresenta cioè uno stadio più elevato dell'amore rispetto a quello passionale perché si tratta di un amore coniugale quindi con una dimensione sensuale ma regolato dalla legge. Infine la terza figura è quella della donna svestita come forse avete osservato la donna appare più alta rispetto alla compagna vestita e la sua condizione nuda invece di suggerire una dimensione erotica al contrario suggerisce una dimensione divina alta nell'iconografia rinascimentale erano le divinità ad essere rappresentate nude perché la loro condizione è quella di verità assoluta quindi quella che abbiamo davanti è una è forse venere e comunque è l'immagine dell'amore più alto dell'amore divino quindi la fiaccola la fiaccola che la fiamma diciamo meglio che brucia nel contenitore che la venere dea regge è allusiva proprio alla fiamma dell'amore divino quindi questa figura rappresenterebbe l'amor sacro per eccellenza ed è il vertice del percorso d'amore che l'uomo nella propria condizione terrena è invitato a percorrere abbandonando la condizione ferina e sensuale per raggiungere attraverso l'amore regolamentato dalla legge la condizione più alta che quella dell'amore ultimo e unico di dimensione divina ma detto questo è letto quindi in qualche modo insomma con grande semplicità nel contesto della cultura neoplatonica l'immagine dobbiamo riconoscerne la condizione di commissione e le caratteristiche quindi di lettura letterale dell'immagine fermo restando che la sposa non è una figura reale non è il ritratto di una donna reale questo dipinto è stato realizzato in un'occasione nuziale lo sappiamo con certezza perché proprio sul sarcofago storiato rappresentato da Tiziano come vediamo è presente uno stemma che è stato letto e riconosciuto e ricondotto a un personaggio molto importante dell'alta burocrazia di stato veneziana si chiamava Niccolò Aurelio ed era il segretario del prima segretario del cancelliere poi gli stessi cancellieri di stato Niccolò Aurelio nel 1514 sposa Laura Bagarotto una giovane di origine padovana e queste nozze hanno un importante sapore politico ed erano nozze che apparentemente non avrebbero mai potuto svolgersi Laura Bagarotto infatti era figlia di un bortolo Bagarotto nobile padovano che nel corso delle drammatiche vicende seguite alla sconfitta di Agnadello ad opera dell'esercito imperiale e francese contro Venezia e del dilagare quindi degli eserciti nemici fino alle soglie della terraferma veneziana nel 1509 aveva assunto un atteggiamento che la Repubblica aveva giudicato ambiguo nei confronti dei nemici una volta superata la fase drammatica dell'assedio e ottenuto alla riconquista dei territori di terraferma Venezia aveva giudicato il Bagarotto responsabile di tradimento e l'aveva condannato a morte insieme al primo marito della figlia Laura per tradimento confiscando tutti i beni del Bagarotto appunto Laura quindi si trova in una condizione di estrema difficoltà perché era rimasta senza protezione né da parte del padre né da parte del marito. Ora le nozze con Niccolò Aurelio si configurano quindi come un tentativo di riconciliazione tra la Serenissima e l'aristocrazia padovana ma forse sono state anche nozze d'amore perché apparentemente tutto contrastava alla felice soluzione di questo rapporto. Tra l'altro proprio a metà degli anni 90 è stato rinvenuto nell'archivio di Stato di Venezia un documento molto importante nel quale si elencavano i beni che erano stati confiscati alla famiglia Bagarotto. Tra questi beni c'era una veste bianca così viene definita e noi sappiamo da un altro documento che la sera prima delle nozze Niccolò Aurelio dona alla sposa, restituisce diciamo così alla sposa i beni dotali che erano stati confiscati e tra questo anche la veste bianca. Ora dal momento che Tiziano ed è stato possibile verificarlo attraverso l'ultimo restauro aveva in un primo momento impostato il vestito della donna con il colore tradizionale delle spose veneziane cioè il rosso che vedete è ancora parzialmente presente nell'immagine nella manica in questo lembo che esce in basso. Tiziano viene probabilmente sollecitato dallo stesso Niccolò Aurelio a sostituire la veste rossa con una veste bianca allusiva al dono che lui ha fatto alla sposa e questo è un indizio davvero affascinante. Vi ricordo ancora come dire l'invito benaugurale dei due coniglietti come simbolo di fecondità e quindi concluderei proprio la nostra lettura con questa immagine di un uomo che la sera delle nozze fa un dono speciale alla sua sposa le restituisce la dote e che per ricordare la propria condizione di intellettuale e per ricondurre il tema dell'amore coniugale in un contesto più articolato e più alto di crescita della condizione umana fa realizzare questo spettacolare capolavoro a Tiziano. Bene anche per stasera la nostra lezione è finita vi invito a contattarmi se avete bisogno consultare le mie pagine e i miei social e vi invito anche a seguire la prossima lezione.